L'arrivo in Italia delle prime dosi di vaccino è sicuramente una buona notizia, ma come al solito il governo ha trasformato tutto questo in una propaganda esagerata, perché ad oggi noi non conosciamo ancora nei contorni, nei contenuti dei piani vaccinali e non conosciamo neanche modalità e tempistiche per la somministrazione. Sappiamo soltanto che la vaccinazione di massa in Italia probabilmente inizierà ad aprile, mentre in Europa e nel resto del mondo, come al solito, sono avanti a noi. Le rassicurazioni di Arcuri e di Speranza fatte attraverso i giornali e le tv ovviamente non sono sufficienti perché non rispondono a tantissime domande, non solo sui piani vaccinali, ma anche su quello che accadrà in Italia a partire da gennaio. Per esempio il trasporto pubblico nulla è stato fatto e il 7 gennaio, come sappiamo, riapriranno le scuole, così come sappiamo benissimo che i ristori non sono stati sufficienti per i nostri laboratori.